Un appello al mondo dell'imprenditoria si leva da Piazza della Repubblica, dove si sono riuniti in presidio i lavoratori delle giubbe rosse, storico caffè che per anni è stato per Firenze il vero punto di riferimento di intellettuali e pensatori, non solo della città. A fine dicembre, per la società che lo gestiva, è arrivata la sentenza più dura, fallimento. Il piano di rientro da un passivo di quasi 3 milioni e mezzo di euro non è stato valutato, infatti, sostenibile. Ad oggi i dipendenti sono scesi a quota 20, la metà a tempo indeterminato, ma la speranza per loro ancora c'è, perché il Tribunale ha disposto tre mesi di esercizio provvisorio, ma occorre fare presto. Abbiamo chiesto che gli imprenditori fiorentini, toscani, italiani non facciano scomparire le giubbe rosse, ma bensì che si impegnino a fare questo investimento e quindi di acquisire le giubbe rosse. Non possiamo pensare che questo caffè storico scompaia dalla città. L'obiettivo è quello di far ripartire un luogo che ha segnato la storia di Firenze e che ne è diventato anche un simbolo. Dal lontano 1896 a oggi è passata tanta acqua sotto i ponti dalle giubbe rosse e sono passate moltissime persone, personaggi illustri, letterati, molti letterati. Montale, Montale era di casa, Mario Luzzi. Il giubbe rosse è l'ultimo baluardo della storia dei locali a Firenze.